ciao a tutti e benvenuti a questo video dei mages of lotus oggi parliamo del modern challenge che è avvenuta il 20 di questo mese quindi due giorni fa da quando registro poi il video ovviamente uscirà più in là quindi calcolate la differenza comunque e come diceva titolo vediamo se il meta del modern è cambiato ci sono tanti mazzi spicy allora su questo video non ci soffermiamo tanto deck su deck descriviamo solo i principali cioè quelli più spicy e quelli classici diciamo così alla veloce poi faremo magari delle tech specifiche sui mazzi quelli proprio più belli e che magari nei commenti ci fate sapere quali preferite e sicuramente quelli interessanti e particolari comunque li facciamo tutti a prescindere detto questo cominciamo con il video anzi cominciamo con il video prima invito a lasciare mi piace commentare iscrivervi mi stavo dimenticando delle marchette e invito anche a comprare da fantasia store con il nostro sconto lotus 5 dalle 5 per 8 di sconto sui prodotti non già scontati e sono davvero velocissimi e ragazzi sono davvero bravissimi i ragazzi di fantasia quindi comprate da loro se avete bisogno di qualcosa anche non solo di magic perché hanno davvero di tutto detto questo cominciamo con il video allora copriremo noi la top 16 comunque i mazzi che vedete anche che sono spessissimo che fino arrivare alla top 32 sono i solidi cioè è presente tantissimo crashing footfalls tantissimi murta in regent vari for color omnat e anche ovviamente il tempo questo perché perché sono i mazzi vabbè sono i mazzi classici sono i top tier del formato quindi quelli è normale che ci aspettiamo il vincitore del torneo è stato domenzo domenzo è un mazzo tier 1 e mezzo alcuni lo costano tier 1 dipende comunque da dai punti di vista con un mazzo fortissimo noi abbiamo consigliato da subito da quando era uscito modo rezzo in due perché una carta giocata questo mazzo territorio al cavo è davvero bestiale è un tarmoghoff sotto steroidi che a differenza del tarmoghoff non ha solo statistiche ma anche abilità che sono rilevanti esiliare del cimitero è fortissimo che va a colpire tantissimi mazzi nel meta morta e gli impedici di fare morta è più veloce living and dai fastidio ci insomma ragazzi chi più ne metta e in caso invece siamo in un match up non interattivo quindi magari contro un combo o robe del genere possiamo fare looting quindi scartare le carte inutili per pescarci delle carte appunto che potrebbero poi in realtà in futuro essere utili appunto scartiamo le morchie perché dice appunto se attacca quando attacca di scartacare se lo fai pesca una carta poi i drop a 1 di questo ma sono molto aggressivi ragavan che è fortissimo ci permette anche di fare i drop a 3 barati inter che appunto ci dà il tesorino e one h3 che in questo mazzo praticamente funge da delver in realtà etapa 1 3 3 non fa nient'altro perché lei prende più o più uno se ne è una paluta è una montagna scusate più o più uno se ne pianura e le costa un verde quindi obbliga avere i colori naya sostanzialmente ed è come premio per avere i colori naya con i tipi di terra quindi non terreno doppie generiche basta 313 quindi praticamente diventa una specie di delver a terra nishoba brawler è una carta che ci tengo a sottolineare perché un uncommon che la gente ci dava pochi centesimi di dominare united che praticamente è una one h2.0 ha sempre tre dietro e diventa più forte davanti pari al numero di tipi terra base che ha quindi massimo 5 e però a trample quindi è utile per questo mazzo di cercare a un certo punto di far passare i danni e non morire dai ciamblocchini questo mazzo ci tengo a sottolineare una cosa è l'unico mazzo che secondo me ha davvero tanto senso giocare giganta giganta la giocano tanti mazzi rinunciando alle carte col doppio costo perché è il pegno da pagare per giocare giganta come companion perdendo delle carte fortissime non lo mi z 5 colori per fare un esempio stupido questo invece un mazzo che tanto i doppi i doppi costi non li giocherebbe a prescindere quindi qua è un buon modo di usare il compenio perché tanto a prescindere il costo del compenio non mi tange non devo rinunciare delle carte sì questo mazzo essendo penta può giocare delle carte doppie ovviamente doppio con doppio costo intendo che sia doppio nero doppio verde doppio blu però questo mazzo che ha la mano a me molto delicata e quindi riuscire ad avere nel punto preciso della partita che tu vuoi avere un doppio colore è difficilissimo a parte il doppio verde è difficile avere magari doppio blu a tour entro turno 3 o se hai doppio blu turno 3 rinunci ad altri colori e quindi diventi meno solido perché vai a perdere magari un punto di domain che è molto più importante vai a perdere la possibilità di giocare delle spell che è molto più importante quindi i doppi costi non si giocano già naturale e quindi giganta è gratis inoltre uno dei punti deboli di questo mazzo è la blood moon e giganta è un modo carino per appunto bypassarla ma so bellissimo e consigliato poi mi ha come seconda posizione è un combo praticamente si basso gli agmot e le creature che quando entrano ed escono dal campo di battaglia con i segnalini grazie immortale noi barriamo con gli agmot e fanno sì che possiamo entrare all'infinito sacrificando le sui agmot stesso e con le creature che quando qualcosa muore o dentro nel campo di battaglia quindi la da artist ss warden non andiamo a pagare i punti vita che nella vita gli agmot li paghiamo poi li recuperiamo subito quindi praticamente possiamo andare avanti all'infinito ma questo marzo molto forte resiliente a un piano b decente è un combo tool box può andare a tutorare carte silver bullet per vincere alcuni match up e in più se vi viene impeccato di scombare perché c'è un controllo sul cimitero molto opprimente può tranquillamente fare un piano miglior tutto sommato bello anche grazie a quattro per di gris che comunque è una creatura qui si può tuturare quando mentre nel marzo punto non è un place walker anzi è un place walker in aggiunta crashing crashing footfalls non lo apro neanche ed anche hammer time crashing footfall diciamo che l'indato il mitrage di riferimento perché è un mazzo che fa sempre la stessa cosa sempre super consistente diciamo che è un po un jand temur del formato nel senso che fa quello faceva jand tanto tempo fa essere solido fare la stessa cosa anzi ancora più consistente del vecchio jand perché il suo piano si basa su cascata e cascara al 100 per cento la stessa carta e quindi diciamo che i due rinoceronti ti li becchi sempre in testa carino un po noioso ma niente da che forte solido hammer time esplosivo ormai la gente si è abituata come funziona come giocarci contro eccetera infatti è calato da solo non è sta comunque un mazzo davvero fortissimo a tranquillamente il piano b in caso dato dalla sonforge che ti apre davvero dei puff dei sentieri di vittoria incredibile ad esempio appunto c'è calda complete e altre carte che possono tranquillamente farti vincere la partita oltre che al piano usa saga quindi mazzo fortissimo solidissimo ottimo agro combo l'immigine anche quando lo apro è il combo più solido del formato perché può giocare tantissima disruption nel forma nella forma di force of negation e anche volendo griff quindi da lì poi ha praticamente otto proteggini tra virgolette sinergici col mazzo questo invece è un mazzo capro molto volentieri che è praticamente simi chart and scales che è anche il motivo per cui faccio il video questo mazzo che mi ha colpito tantissimo ed era sparito nel meta praticamente si basa sulla sinergia data da modulare e segnalini più uno più uno praticamente è una specie di affinity passatemi il termine almeno gioca un piano dell'affinity l'affinity aveva all'interno questa strategia tramite l'arc bound gravager che è una carta fortissima che una volta costava tantissimo perché era davvero la è una delle carte più rotti del modern ora invece purtroppo non si gioca più robots affiniti quello che c'è il modem sto bannato e quindi è stato relegato nel suo ruolo da capo di arden scales le scale ovviamente sul ruolo è quello che va in affinity ed è anche potenziato sacrifici in artefatto gli metti un più uno più uno sopra di lui e poi modulare praticamente i suoi segnalini quando li muore disposti un'altra creatura artefatto il tutto è reso ancora più solito dal fatto che giochiamo solo creatura artefatto creati un artefatto con world zabbats che ci permette di far attivare quando vogliamo modulare sacrificando gli artefatti come vogliamo e in più ci permette se una trigger di modulare deve mettere se le linee di potenza con il più quindi fa oltre che essere un'ottima carta perché modulare ci fa triggare modulare eccetera lei stessa ci fa da arden scales in alcuni casi poi ho solito altra carta fortissima perché ci permette di fare il doppio i segnalini perché non è che vengono trasferiti cioè se voi fate modulare più o solito non è che mettete da una parte o dall'altra praticamente fate una specie di trasferimento e quindi lo solito in realtà praticamente tra virgolette vi raddoppia i segnalini per questo che è molto 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 forte in questo mazzo l'unica sfiga che da solo nel massimo fate comunque due coppie però considerate che in realtà questo mazzo lo tutora facilmente perché giocato 4 per questa saga questo è un mazzo che aspettavamo esplodesse dopo l'arrivo di rusa saga perché era palese che fosse fortissimo qua però purtroppo poi stato un po oscurato ma ma secondo me è dato dalla difficoltà è un mazzo che secondo noi può dare molto di più rispetto quello che adesso nel meta di modern però va ovviamente in parto giocare a differenza di affinity robots non perdona gli errori anche se molto più resiliente affinity rischiava di morire in alcuni board state con le classiche carte da hate questo invece molto più difficile eliminarlo per dire se un anche mark wall hunger back walker con tantissimi segnalini sopra se tu lo ammazzi mi fessero tra virgolette un piacere perché metto tantissimo uno persona l'ammazzi lui un gigante che ti uccide quindi siamo sempre punto a capo poi altra carta sempre ozzolito del shuttered spire che è un altro inserimento da aftermath che è praticamente un'altra artesca quindi questo perfetto davvero 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 estremamente solido perché ora gioca 4 8 11 art and scales più altri due ozzoliti normali cioè volendo può anche giocare di più capite che poi però sono troppi comunque ci siamo capiti può giocare davvero tantissime copie di una carta che va a costo bassissimo è anche difficile interagire perché appunto sono artefatti gran po incantesimi tranne sabbath che vanno a potenziare la strategia di segnalini 1 1 questo ma sopra fortissimo ci è consigliato perché anche questa chip ma dovete investirci tanto tempo per impararlo il resto del meta invece fino poi alla posizione 16 non niente interessante tranne twiddlestorm twiddlestorm in realtà un mazzo anche abbastanza vecchio del modern che però ha ricevuto un po di buff in passato ovviamente allora praticamente si basa su scombare tramite carte come twiddle che stappano o tappano ci interessa la parte che stappa in realtà noi una permanente in particolare una terra in questo caso il nostro lotus field avete già capito perché praticamente la combo è barare con il tuo sfilde come fa il idl strings di pioneer solo che qua è più veloce come chiudiamo chiudiamo facendo tantissimo mana grazie al lotus field stappandolo tantissime volte grazie a twiddle come facciamo questa cosa qua di farlo tantissime volte una volta si usava pasta in flames e quel mazzo era un meme adesso il mazzo non ancora tra virgolette un meme ma non del tutto perché ha underworld bridge che tra me tremendamente forte underworld bridge praticamente da a tutte le nostre carte nel nostro cimitero escape pagando il loro costo che usi le hanno delle carte quindi capite che tom scour costando un mana ma macinando cinque carte ci permette di ripillare tantissimo il cimitero perché noi abbiamo underworld bridge in campo il lotus field tappo sono tre mana un mana con twiddle e stappo lotus field un mana faccio tom scour e macino cinque a questo punto io ho tantissime carte nel cimitero più lotus field stappato lo tappo altri tre mana sono nato quattro perché ne avanzo uno e poi da lì posso ricominciare il ciclo perché posso fare twiddle resigliando parte delle carte che ho tolto con appunto il tom scour appunto rifare tom scour di nuovo e rifillarmi il cimitero con altre carte rifare il quale spell che voglio a un certo punto avrò fatto tantissime spell perché nostro obiettivo raggiungere le 20 spell circa che è facile perché a un certo punto siamo spell infinite tra l'altro non potete macinarvi e morire per il semplice fatto che comunque queste carte non pescano ci dicono macina tra virgolette potete anche tirare con zero carte nel grimorio non farete niente semplicemente o l'ho fatta all'avversario comunque insomma ci siamo capiti non siete obbligati a pescare perché non c'è nessun effetto che vi fa pescare quindi se dovete tirare spell sopra e fare numero potete farlo ma comunque ad un certo punto tirerete una grape shot da mille miliardi e fate fuori l'avversario tra l'altro se l'altro non ci isilia il cimitero siamo anche bypassiamo abbastanza anche counter perché tanto una volta queste spell hanno risolto io scombo cioè io vado avanti inizio a mangiare a mangiarmi il mazzo e ho vinto è difficile davvero bloccarmi perché una volta costruzione a scombare si immagina praticamente tutto questo mazzo molto interessante e ci faremo la deck tech probabilmente questo non è consigliato per i principianti perché ha un costo basso perché comunque storm non è costoso a parte la mana base perché ur ma non lo consigliamo è davvero molto complicato e ok che meccanico la volta che si impara si va ma secondo me è un principiante che si avvicina al formato questo mazzo tra e poco si annoia poi o questo è il principiante medio se sapete già di combo player ad hardcore montatelo senza problemi fate occhio che non è inter 1 quindi comunque le botte le piglia e fate occhio anche a lei sul cimitero endolas comunque nel formato è giocata allora vediamo un po il meta in generale e facciamo un paio di analisi allora il meta in generale è quello che ci aspettiamo quindi la domanda il meta è cambiato sni è cambiato nel senso che il voto il formato è rimasto quello che è rimasto cioè i tir 1 sono quelli però come diciamo in ogni video che facevamo in passato adesso da un po che non ne parliamo di da questo punto di vista il modern un formato che non premia tanto giocare il tir 1 perché la differenza di potenza tra un tir 1 un tier 2 è un tiro 1.5 non è altissima basta vedere che il primo che è arrivato è domenzo che non è un tier 1 ma anche yakmoth non è un tier 1 per dire ma ciò che conta davvero il modern è l'esperienza giocare un mazzo ben tunato quindi ben costruito qualsiasi esso sia nel con la side corretta e con la vostra esperienza perché magari siete molto esperti quel mazzo e sapete perfettamente cosa fare in ogni match up qui premia molto di più rispetto a giocare t1 e basta per dire se voi siete bravissimi a giocare twiddle storm che un mazzo tra virgolette del cavolo e dovete scegliere da portare twiddle storm che giocate benissimo al cento per cento sapete cosa fare come approcciarvi in ogni match up come circondavigare late e dovete scegliere tra appunto twiddle o for color omnat ur murtide e così via che però giocate così così l'avete preso in mano qualche volta e l'avete giochiato sciogliete sempre tutto il storm se lo fa un torno importante perché ripeto il formato premia tanto l'esperienza non premia tanto il giocare del tier 1 ma anche perché ragazzi parliamoci chiaro prendiamo un mazzo morto sepolto come gian boomer il mio caro gian boomer che giocavo tantissimo tempo fa è un po che non gioco moda semplicemente perché non ho tempo partenza terra scatto terra tarmo terra lì contro nissimi mazzi è ancora forte è una giocata era giocata tier 1 adesso che una giocata forte che stende tutti che è forte come una volta no però una giocata forte e potete tranquillamente vinceci tantissime partite e anche mettendomi nei panni di prima se devo scegliere tra portare ur murtide che non ho mai perso in mano perché non l'ho mai giocato e portare boomer giando un evento porto boomer giante per semplice fatto che ho molta esperienza e so quello che sto facendo so come approcciarmi mentre l'altro che non ha esperienza magari col mazzo o ha poca esperienza approcciarsi a tutti i match up eccetera farà degli errori che gli costeranno la partita e giocando con soprattutto contro un mazzo che non è molto nei radar ha maggior ragione può fare errori di valutazione e basta solo quello anche basta poco per perdere il power level delle carte è talmente alto in modern che basta poco infatti in modo non formato molto divertente per questa cosa perché mi lega sia anche un po così ma un po di meno prendo legati perché l'altro formato cui paragonabile ma anche un po paio nira la differenza di potenza tra un tier 1 e un tier 2 si sente anche tanto quindi il fatto che giochi un tier 1 e un tier 2 solo l'esperienza non è detto che compensi perché c'è tanta differenza di potenza tra i due mazzi proprio di le carte che può avere nel pool che può avere la scelta di carte che può appunto nel carnet che può scegliere invece qua il power level è talmente alto per tutti che comunque le due giocatori sono quasi alla pari di potenza per dire anche un altro mazzo che non si calcola nessuno tritoni tritoni può fare delle partenze sgravatissime terra fiala terra sprechi in season in cui non vede in cui non le terre e ti butto un tritone è fortissima e può tranquillamente vincere tantissime partite quindi ragazzi come diciamo spesso appunto guardate bene il vostro mazzo in parte a giocarlo bene e da lì si può tranquillamente vincere le partite poi ovvio che è meglio giocare un tier 1 e giocarlo alla perfezione perché è così che funziona però ricordate anche questo il vostro avversario come anche voi nessuno è perfetto non ci sarà mai il giocatore o comunque sono pochissimi il giocatore che gioca al tier 1 e lo gioca perfetto graffate la gente che giocherete giocherete contro sarà gente normale poi magari quando si va ai tavoli altissimi di gp o un secondo al secondo giorno ai tavoli alti lì magari ok è più complicato però appunto nel gran parte dei casi no a maggior ragione invece se giocate addirittura come facciamo sempre il classico esempio giocate in fumetteria quindi il competitivo fan il competitivo fan quindi i vostri tornei di fumetteria fatelo col mazzo assolutamente che se vi sentite meglio che sapete giocare al meglio perché lì proprio del professionista non esiste e quindi a maggior ragione ma spero questo video sia piaciuto fatemi sapere nei commenti che deck tech vi interessano in particolare a parte quelle che ho già detto che sicuramente faremo perché sono mazzi molto interessanti ma di sapere se volete qualche appunto mazzo descritto qualsiasi mazzo descritto qua che ne facciamo una bella deck tech anche da un po che non li facciamo di quelle di modern di quelli vecchi nel senso come se per dire murta il regent o questi mazzi così quindi per vedere gli aggiornamenti noi ci vediamo il prossimo video come al solito ciao ciao e fate i bravi